Ciao ragazzi, oggi volevo confrontarmi con voi riguardo 1 l'arrivo di Iliad in Italia e 2 l'idea di poter utilizzare nel 2018 un iPhone SE. Visto che sono argomenti che di solito non tratto né qui sul canale né tantomeno sul blog, ho deciso di approfittare di questa nuova serie di video inaugurata a fine giugno per avere un dialogo più aperto con voi, ed inizierei con l'iPhone. Premetto che non ho mai avuto un iPhone in vita mia, che utilizzo iOS solamente sul mio iPad mini lo reputo il miglior OS per quanto riguarda i tablet, e che in linea di massima preferisco il mondo Android a quello chiuso e dorato di Apple, ma soprattutto ci tengo a dirvi che questo specifico terminale non l'ho acquistato per me, ma l'ho preso per fare un dono ad una persona che generalmente non supera i 200€ di budget per l'acquisto di un nuovo telefono, e che ne cambia molto di rado all'incirca ogni 5-6 anni. Detto ciò, volendo fare questo regalo, ho girato un po' in lungo e largo sul web cercando telefonini che potessero andar bene. Caratteristica principale doveva essere uno schermo piccolo, niente padelle, e possibilmente un dispositivo che, tra virgolette, non morisse o si impallasse dopo neanche un anno di vita. Poi mi sono detto, e se guardassi anche gli smartphone ricondizionati? Così ho trovato su Amazon l'offerta relativa a questo iPhone SE 16GB a 160€ e spicci, e mi sono detto, secondo me a quel prezzo ci sta tutto. L'iPhone SE è passato alla storia per essere fondamentalmente un iPhone 6 nel corpo dell'iPhone 5S. Ed infatti, nelle dimensioni minute dei modelli 5 e 5S che avevano un display multitouch da 4 pollici retina 326ppi anche qui presente, abbiamo ora un peso piuma di 113 grammi, un processore A9 dual-core a 64 bit con GPU, PowerVR, esa-core e coprocessore M9 di movimento, 2GB di memoria RAM e 16GB di memoria interna di cui circa 12 liberi per l'utente, il supporto alle reti 4G LTE con WiFi AC e Bluetooth 4.2, una fotocamera Sony Exmor RS da 12MP con doppio flash LED a due toni differenti, autofocus, filtro IR, bus mode, foto live e capaci di registrare video fino al 4K a 30fps, 1080p a 60fps o 720p in slow motion fino a 240fps. Una fotocamera frontale da 1.2MP con apertura f2.4, controllo dell'esposizione, rilevamento del volto, HDR automatico, flash retina cioè si illumina lo schermo di bianco, registrazione video fino a 720p, speaker mono sul fondo, jack da 3.5mm per le cuffiette e porta lightning. C'è il sensore di impronte digitali, i classici accelerometro, giroscopio, sensori di prossimità, il luminosità, la bussola, c'è l'NFC per Apple Pay. A sostenere il tutto, una batteria da 1642 mAh che dovrebbe garantire diverse ore di autonomia. L'iPhone SE è uscito nel 2016 e poi è stato reimmesso nel mercato nel 2017 allo stesso prezzo dell'anno precedente, ma con il doppio della memoria interna e nessun altro cambiamento. Acquistarlo oggi sul sito ufficiale Apple o nei negozi a prezzo di listino equivalrebbe a sborsare 429€, cifra chiaramente fuori mercato. La mia domanda per voi è... Ha senso preferire un iPhone SE ricondizionato, quindi non nuovo, con tutte le caratteristiche appena descritte pagandolo 160€ ad un qualsiasi altro telefono, anche nuovo, sborsando meno di 200€? La risposta che io mi sono dato e che chiaramente mi ha portato all'acquisto è stata sì. Mi sono basato principalmente su questi fattori. 1. Dimensione dello schermo entro i 5 pollici. 2. Portabilità. 3. Supporto software. 4. Durata nel tempo. Per quanto riguarda lo schermo c'erano dei vincoli, ma anche io personalmente preferisco telefoni entro i 5-5.2 pollici massimo alle padelle. Forse addirittura 4 pollici sono un po' strettini, ma aggiustando la dimensione dei caratteri e fondamentalmente non utilizzandolo a modi riproduttori multimediali di video, beh, direi che si può utilizzare tranquillamente. Per quanto riguarda la portabilità, invece, tra peso inesistente e dimensioni riduttissime, direi che ci sono ben pochi rivali sulla piazza. Passando invece al supporto e durata nel tempo, l'iPhone SE è uscito con iOS 9 e sarà aggiornato con tutti i suoi fratelloni ad iOS 12 in uscita a settembre. Considerando che di solito Apple supporta i suoi prodotti per almeno 4 anni e che l'SE è stato ricommercializzato nel 2017, direi che per un altro paio di anni dovrebbe ricevere update senza difficoltà, senza contare che ad oggi qualsiasi applicazione pubblicata sullo store ci gira senza difficoltà, cosa che non è valida sempre nel mondo Android con telefoni da 160€. Lato hardware, essendo in metallo, dovrebbe reggere di più rispetto a telefoni in vetro, e poi ci sono accessori per ogni gusto e fantasia, visto le dimensioni identiche con i modelli 5 e 5S. Insomma, secondo voi ci sta un iPhone SE nel 2018? Oppure è stato un azzardo? Per quanto riguarda la questione prodotto ricondizionato, il telefono è arrivato in una scatola generica senza accessori originali e con un caricatore che non sono sicuro essere ufficiale di sicuro il cavetto Lightning non lo è. Poco male comunque, perché sembra funzionare senza particolari problemi. Esteticamente parlando ho notato solamente un paio di graffietti sul bordo, per il resto tutto funziona alla grande, ma chiaramente qui è un po' un prenderci, mi sarebbe potuto capitare di peggio, o di meglio, anche se in generale le componenti danneggiate dovrebbero essere sostituite e c'è una garanzia di un anno sul prodotto. La batteria viene sicuramente sostituita, ma non sono certo che possa valere ancora la garanzia Apple su un prodotto simile, quindi ci si deve rivolgere ad Amazon. Il mio consiglio, in caso, è di acquistare solo se i prodotti sono almeno spediti da Amazon stessa. Almeno i resi, il supporto ecc viene in qualche modo gestito da loro, evitate acquisti da venditori terzi con spedizioni al di fuori del circuito Amazon se acquistate su quel sito chiaramente. Altrimenti anche Apple stessa vende prodotti ricondizionati, ma a prezzi ridicolmente elevati. Per come la vedo io, considerando quanto sia fluido il dispositivo, che fa ottime foto e video anche in 4K, che ha un mondo immenso di applicazioni installabili, il lettore di impronte digitali con tanto di pagamenti, praticamente il supporto completo dall'ecosistema Apple con HomeKit, Watch, etc., un ottimo display anche se forse un po' piccolino e così via, boh, secondo me ci sta tutto. Ma vi aspetto nei commenti per sapere la vostra a riguardo. Voi lo comprereste? Passando invece ad Iliad, io sono stato tra i primi utenti a richiedere una sim del tra virgolette nuovo operatore su cui ho perfino fatto il passaggio dal mio vecchio gestore. L'ho richiesta online il giorno stesso del lancio e l'ho ricevuta in una settimanella, attivandola e configurandola con l'app come richiesto . Premetto che dove abito e lavoro io non ho nessun problema di copertura con alcun operatore. Team è quello che forse prende meno, ma comunque si utilizza tranquillamente, e le altre compagnie hanno momenti di indecisione davvero rari. Ad oggi Iliad utilizza le antenne Wind 3, visto che le proprie sono ancora spente. Quindi fondamentalmente dove c'è copertura Wind 3 c'è anche copertura Iliad, il che non è male se si pensa che l'operatore è entrato sul mercato da un mese e mezzo circa, ed ha già una copertura praticamente completa dell'Italia. Un conto però è coprire, un altro è fornire un ottimo servizio. In queste settimane ho avuto modo di spostarmi un po', quindi ho provato la rete a Roma, in diverse zone, a Firenze, Bologna e provincia, Milano ed altre aree del Lazio. Allora, io non ho mai avuto problemi di mancanza di segnale o impossibilità di utilizzo della rete dati. Ho anche effettuato vari speed test che state vedendo scorrere a video che dimostrano che, mediamente, la velocità del 4G di Iliad è superiore a quella di una tipica DSL 20Mb. Quindi stiamo parlando sicuramente di una velocità più che accettabile per navigare sul web, ricevere email, messaggi o anche vedere video in streaming. A meno che non facciate teetering o hotspot poi di problemi davvero non dovreste averne. Nei miei viaggi mi è capitato raramente di essere senza segnale, al massimo ho notato una sorta di tra virgolette appisolamento della rete dati con ricezione ritardata delle notifiche. Nelle ultime settimane però non ho mai più riscontrato questo inconveniente. Altra cosa interessante che mi è capitato di notare è che dove il mio BlackBerry prendeva 4G+, spostando la stessa sim in altri device ed ho provato anche con l'iPhone SE, quest'ultime restavano fissi in 3G. Non so da che cosa può essere di peso, però l'ho trovato abbastanza curioso. Per quanto riguarda i consumi, a me sembra che da quando ho Iliad il mio telefono consumi molto meno di prima. Probabilmente fa meno fatica a trovare segnale libero e forte ora che c'è ancora poca folla connessa alle celle. E' anche vero che tutti questi discorsi, finché non verranno attivate le vere antenne, valgono comunque poco. E voi siete già passati a Iliad? Vi ha colpito la loro offerta a 5,99€? Avete avuto problemi? Difficoltà di qualsiasi natura? Vi aspetto nei commenti. Personalmente fino ad ora sono più che soddisfatto visto che pago meno di prima, poco meno a dire il vero visto che avevo già un'ottima offerta anche prima di Iliad. Ma ho molto di più. Dalle chiamate ed sms illimitati, che ogni tanto mi tocca utilizzare, al traffico dati per me è pressoché infinito. Non ho mai superato i 2GB di traffico dati in un mese, figuriamoci ora arrivare ai 30. Ammetto di essere in una situazione tra virgolette da privilegiato, visto che ho sempre buona copertura, a differenza di tanti altri utenti che si stanno lamentando sul web. Ma al contrario di prima, io ora posso usare il telefono in tutte le stanze di casa, cosa che prima ad esempio nel corridoio non mi era possibile perché spesso cadeva la linea. E faccio tutto quello che facevo prima con velocità pressoché identiche, pagando meno e con margini più elevati. Bene, volevo fare un video veloce ed invece mi sono allungato. Spero che abbiate trovato utili questi spunti e per questo vi aspetto nei commenti per sapere che cosa ne pensate al riguardo. Fatemi sapere se vi piacciono questi video più chiacchiericci lasciando un feedback. E per non perdervi tutti i prossimi focus che pubblicherò se ancora non lo foste, iscrivetevi al canale attivando le notifiche per essere subito avvisati quando saranno disponibili. Nei prossimi giorni arriveranno le mie considerazioni sul nuovo giochino che ho acquistato per Switch, nuovi tutorial, nuove puntate di It's Yourself e forse qualche sorpresina. Perciò ci sentiamo presto, ciao! Grazie! Grazie!